Allora, non ci sono ostacoli per questa coccinella, si torna al girone di ritorno e si apre con una nuova vittoria. Beh sì, quest'anno non c'è storia per nessuno credo, quindi 11 su 11 per adesso si va avanti così fino a fine del campionato. Allora, abbiamo detto che questa comunque non era una partita che produce classifica, però nonostante tutto la coccinella continua il suo percorso, ha vinto partite molto importanti, l'ha dimostrato anche questa sera che nonostante questa squadra non faccia classifica, però la coccinella dice noi dobbiamo giocare la nostra partita. Beh, io credo che tutte le partite sono importanti, non c'è una partita che conta meno e una che conta di più e poi tutte le partite valgono sempre qualcosa, questo è vero non valgono dei punti, però valgono i gol fatti e i gol subiti e anche quello è importante. Quello è importante, lo spirito non cambia e questa squadra resta comunque sempre sul filo del rasoio perché ogni partita assolutamente non si deve lasciare nulla al caso. No, no, anzi, ogni partita è sempre più emozionante, più importante perché è vero che hai vinto lo scontro diretto, però non si deve mollare niente. E poi ci sono le possibilità anche per il mister di metterlo in difficoltà anche perché ci sono tutte le occasioni per poter far ruotare la rosa a disposizione, abbiamo rivisto il ritorno in campo soprattutto della vostra compagna che non aspettavate altro, Vanessa Coletta. Beh sì, è tornata Vanessa, il nostro centrale importante, però anche tutte le altre componenti della squadra e della panchina sono sempre importanti, diciamo adesso Vanessa si sta riprendendo e tornerà presto la coppia che ha preso solo 12 collo in 20 partite. Grazie. Grazie.